Lewandowski L'azienda come a collaborare Attenzione a Lewandowski! E' il pallone di Lissé Rega! Il pallone di Poglio è un pallone. Ha trovato un gol come non se ne vedo lo spesso. Replay più premerita. Occhio a Lewandowski! Lewandowski, prova lui! Può cercare il cross. Prova Lewandowski! Lewandowski! Occhio al contropiede! Può andare in porta qui! Prova Lewandowski! Ed è gol! Attenzione a Lewandowski! Lewandowski, prova lui! E' arrivato! Il gol del vantaggio! Palo e gol! Lewandowski! Lewandowski! Attenzione a Lewandowski che ha spazio! E' il pallone finisce in rete! Ancora male in copertura! Prova Lewandowski! Lewandowski! E' un pallone a Lewandowski! Giocata lunga per Lewandowski! E' tutto solo! Lewandowski, prova lui! Supera di netto il marcatore! Supera di netto il marcatore! Prova Lewandowski! Lui! Lui! Attenzione a Roroggio! Secondo lato! Lewandowski! E' un pallone! Lui!